Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, io sono TheMarmor e sì la domanda è questa Che diamine è successo ai giocatori di Fortnite? Allora vi faccio una premessa, quello che vedete sotto è un mio gameplay che ho registrato un'oretta fa In cui ho vinto, ho vinto questa Battle Royale, ma quella che vi voglio far vedere oggi non è la mia vittoria, bullarmi della mia vittoria O meglio vi farò vedere la mia vittoria, ma il motivo per cui ho fatto questo video è appunto un altro Cosa è successo ai giocatori di Fortnite? Perché sono diventati tutti così scarsi? Ebbene sì amici perché io non sono mai stato un grandissimo giocatore di Fortnite, devo ammetterlo Ho fatto poche vittorie, non sono neanche particolarmente bravo a costruire Tuttavia mi sono accorto che con questo nuovo capitolo di Fortnite, il capitolo 2 I giocatori sembrano essersi tutti rincretiniti, lasciatemelo dire Nessuno costruisce, non sanno più mirare e riesco ad ucciderli veramente in una maniera easy Come direbbero i pro Non mi spiego questa cosa, che voi sappiate c'è stato un aggiornamento sul matchmaking Ovvero hanno introdotto il matchmaking in base al livello Infatti dopo solamente due partite, nel nuovo capitolo di Fortnite Sono riuscito a vincere in una maniera estremamente semplice Perché estremamente semplice? Ora vi farò vedere con la clip che ritrae esattamente la mia vittoria Che non è nient'altro che la fase finale ovviamente di questa partita che state vedendo adesso in sottofondo Bene amici, io vi lascio alla clip, ci rivediamo dopo Bene amici, io vi lascio alla clip, ci rivediamo in sottofondo Bene amici, io vi lascio alla clip, ci rivediamo in sottofondo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Non credo di essere diventato all'improvviso un pro di Fortnite Non credo proprio, anche perché come potete vedere io non ho costruito È bastato un albero per ripararmi Sono riuscito a ucciderli in una maniera veramente facilissima Una seconda kill che ho fatto contro uno che stava scappando da me Si è improvvisato una costruzione, devo dire, carina Ma è bastato girarci attorno per ucciderlo E un terzo che non si è neanche accorto della mia presenza Perché stava vagando nell'erba e poi appena è riuscito a vedermi Gli ho sparato un colpo di cecchino in testa O perlomeno l'ho ucciso comunque se non era in testa Quindi perché i giocatori di Fortnite ve lo ribadisco Per l'ennesima volta sono diventati così stupidi O non lo so, così fermi Devo ammettere che mi trovo un po' meglio con la mira Mi sto trovando leggermente meglio con la mira Quindi non vorrei che questa cosa stia avvantaggiando me Che non ero capace prima Però stia dando uno svantaggio a chi era abituato a un altro sistema di mira Ovvero quelli bravi prima Ditemelo voi, scrivetemelo nei commenti Lasciate un like se questo video vi è piaciuto Io sono The Marmor e vi saluto ad un prossimo video